Sono un riparatore di caldaie e stufe, le tengo manutenzionate, questo per rispettare la sicurezza, farle funzionare in sicurezza e soprattutto evitare le emissioni in ambienti inquinanti. Il mio lavoro è il rapporto con le persone, perché sembra, ma quando si va in casa delle persone a riparare gli apparecchi termici si dialoga molto con le persone, si vedono quali sono le loro necessità di comfort e quali sono le necessità, i loro problemi riguardanti ovviamente gli impianti e gli apparecchi termici. Anche se non è Masterchef sì, io lo consiglierei, lo consiglio perché è un lavoro bello, un lavoro non più come nei tempi passati, oggi l'idraulico utilizza tecnologia, utilizza la tecnica, utilizza anche una conoscenza di gran lunga superiore, lontana da quegli stereotipi dell'idraulico che si sporca le mani e fa tanta fatica. Sembrerà retorico, ma mio padre era un idraulico e io ho fatto l'idraulico, quindi immaginavo proprio un mestiere che poi oggi sto facendo.